secondo turno a vedere la gara del Trabzonspor formazione turca che a sorpresa batte all'andata il 20 di ottobre del 76 con il gol su rigore che vedremo di Cemil al 62esimo il Liverpool quindi si permette il lusso di battere gli inglesi che però al ritorno vinceranno 3 a 0 con i gol di Awey, Johnson e Keegan il rigore di Cemil, giocatore storico e molto conosciuto anche in nazionale immagini amatoriali, questa è della tv turca ancora il pubblico della gara di andata a Trabzon rivedremo di nuovo il rigore di Cemil, eccolo qua 1 a 0 per il Trabzon, 3 a 0 al ritorno per il Liverpool, passa il Liverpool